. Uomini e donne, Giulia Latini sbotta, le sue parole su Soleil e Luca . Giulia Latini di Uomini e donne, la rivelazione su Soleil e Luca. Dal momento in cui Soleil sorge è stata sorpresa quasi due settimane fa insieme a Marco Cartasegna si è scatenato un vero e proprio putifereo su social. . Di fatti in tanti l'hanno critica aspramente, accusandola di aver mancato di rispetto al fidanzato Luca Onestini, uscendo con il suo più acerrimo rivale. . Finita qua? Nemmeno per idea perché quest'ultimo è stato informato di questo fatto dal fratello lunedì scorso durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip. . A quel punto la reazione del concorrente è stata molto dura, arrivando anche a urlare alla fidanzata Vigliacca perché non si è presentata nella casa più spiata dagli italiani per affrontarla. . Tuttavia la ragazza, nonostante non abbia voluto parlare al fidanzato, ieri pomeriggio è andata da Barbara D'Urso, rivelando la sua verità e accendendo nuovamente la polemica in rete. . . E poche ore fa ha voluto dire a sua tal proposito anche Giulia Latini su Instagram. . Difatti, come segnalato dal blog Il Vicolo delle Neves.it, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rispondendo a una domanda di una fan sul caso Sollei l'ha replicato senza mezzi termini. . Ho risposto a una domanda fatta da Alfonso Signorini, se non lo avessi detto sarei stata falsa e se l'ho detto è perché voglio fare casino e non vi va mai bene nulla e? Ma perché è stata criticata?. . Uomini e donne, Sollei le Luca nell'occhio del ciclone, parla Giulia Latini. Soleil sorge, in questi ultimi giorni, ha attaccato duramente Giulia Latini, rea di essere rimasta in contatto con Luca onestina sua insaputa. . Motivo per cui, Giulia, poche ore fa ha rotto il silenzio, cercando di difendersi dall'accusa e dalle critiche ricevute su Instagram. Tuttavia non è andata sullo specifico, non rispondendo alle accuse mosse da Sollei l'ieri pomeriggio. . Ma non è finita qua perché quest'ultima è sembrata un vero e proprio fiume in piena ieri a pomeriggio 5, dichiarando di non ritenersi più fidanzata, dopo aver visto la furiosa reazione del fidanzato Luca onestini nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. . Insomma, sembra che la relazione tra Luca e Soleil sia arrivata a un punto di non ritorno, con buona face dei tantissimi fan del famoso dating show Uomini e Donne. . Ci saranno altri sviluppi? I due potrebbero chiarirsi nella prossima puntata del GF Vip e decidere di rimanere insieme? Per scoprirlo non resta che seguire la trasmissione lunedì prossimo alle 21.30 sui canale 5 subito dopo Strescia la notizia. .